buongiorno e buon primo giorno di vlogmas quest'anno vlogmas sarà un po particolare perché ogni giorno a parte che caricherò vari video e vari vlog ora vediamo un attimino caricherò da oggi fino a 25 dicembre le aperture dei miei calendari dell'avvento come sapete io ne possiedo due uno di look fantastic e quello della degusta box e quindi oggi cominceremo ad aprirle la casellina primo dicembre allora cominciamo da questo di look fantastic che come vedete anche a livello proprio visivo a livello di decoro è veramente molto molto bello in questo cartonato blu rigido lo andiamo ad aprire e all'interno ci sono tutti i cassettini dei giorni dell'avvento e come vedete tra l'altro è talmente bello che pensavo poi di tenerlo o riutilizzarlo magari per mettere dei gioiellini qualcosa ma direi di non perdere tempo e andiamo ad aprire la casellina numero uno eccola qua vediamo che cosa si nasconde al suo interno abbiamo già uno spoiler perché come vedete ci viene già indicato qualcosa ed è una palette di morphe in realtà io avete già visto questo cartello aprire da osservatrice scalta lo sapevo già ma la curiosità e il bello di aprirlo è sempre stupendo allora questa è la scatolina della palette che è la morphe always golden numero 9a e adesso andiamo ad aprirla insieme allora questa è la palettina aspettate che la tolgo dalla luce come vedete è bellissima sono tonalità perfettamente nelle mie corde perché sono tonalità nude neutre e portabilissime tutti i giorni ed è veramente una chicca allora ci sono sei cialde di ombretti adesso andiamo a vedere se c'è qualche indicazione in più allora sono sei cialde di ombretti durano 12 mesi il palette è 12 mesi volevo vedere se c'era scritto quant'era la quantità ma comunque è veramente una bellissima palette carina piccola da poter portare anche in vacanza adesso passiamo al calendario della degusta box allora eccoci qua il calendario della degusta box è veramente immenso e ve lo faccio vedere è anche molto molto bello vicino alla cucchetta dei miei gatti adesso cerchiamo insieme il numero uno che eccolo qua apriamolo e vediamo che cosa si nasconda al suo interno allora aspettate che apriamo bene eccole qua allora al suo interno della casellina numero uno ecco qua troviamo questi biscottini della H farina natura toscana le voglio le biscottini salati al carbone digitale con spinaci olio d'oliva e pomodoro dal forno di Umberto eccoli qua quindi questi sono biscottini salati non conoscevo questa marca quindi andremo ad assaggiarla e sono veramente contentissima eccoli qua all'interno troviamo anche un bigliettino ci mettiamo qua sopra che diciamo spoiler tutto ciò che c'è all'interno del calendario del evento ma io non voglio vederlo perché appunto mi piace aprire giorno per giorno e quindi questo è quello che ho trovato nel calendario evento degusta box e nulla come avete visto due bellissime sorprese la palette questi biscottini salati che non conoscevo adesso ci rivediamo domani per aprire il 2 di dicembre vi auguro una buona giornata vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale attivare la campanellina e lasciare un like di supporto ci vediamo domani con un nuovo vlogmas ciao